Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì la circolazione depressionaria che insiste sul Mediterraneo occidentale continuerà a coinvolgere proprio Nord Africa e in parte anche la penisola iberica, mentre sull'Italia continuerà a insistere questo campo di alta pressione seppur con correnti sempre particolarmente umide e meridionali. Notiamo infatti la mappa della nuvolosità che ci mostra un'Italia, le prese con le nuvole, soprattutto le regioni del nord ma anche la Sardegna, la Sicilia, una nuvolosità che porterà anche qualche pioggia in particolare sulla Sardegna. Infatti osservando lo zoom delle precipitazioni notiamo come sia più coinvolta maggiormente la Sardegna con qualche fenomeno proprio legato a questa circolazione depressionaria che insiste sul Nord Africa. Ma passando al tempo previsto sul nostro paese notiamo infatti una giornata nel complesso soleggiata a tratti sulle regioni adriatiche su parte del sud, mentre altrove insisterà la nuvolosità soprattutto al nord con anche qualche goccia di pioggia possibile qua e là, ma le piogge saranno più probabili sulla Sardegna come dicevo prima. Temperature che saranno particolarmente miti, in particolare sulle regioni del centro con punte anche di 18-20 gradi soprattutto tra Lazio e Toscana. Ventilazione di scirocco che continuerà a soffiare sulla Sardegna. Per tutti i dettagli e consultate l'app di Trapi Meteo.